Il Signore si è aperto. E con il tuo Spirito. Ogni ero secondo te il Signor. Quando erano giunti a Cavalma, quelli che rispogliano con la cassa per il tempo che avevano un piede per il Cristo. Il vostro Maestro non fa la cassa. Risposto, sì. Mentre io mi chavo grafica, non si scoprò dei miei genitori, non si scoprò dei miei genitori, non si scoprò dei miei genitori. Il rete era vero da cui rispondono con la cassa. E io tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.